Benvenuti ragazzi in questo video, in admin mi hanno teletrasportato dentro questa prigione di bedrock Però io gli ho piazzato un secchio di lava in testa e l'ho ucciso Adesso non ho un'idea di dove sia Lo sto aspettando qua Non so che cazzo, ora come esco da questa prigione? E' tutta di bedrock, non posso uscire Quell'admin frocio, mi aveva detto che ero un griffer, ma altro che ucciderlo Ah, se torna qua lo uccido tanto Con tutta l'armatura, ah ma forse ho visto che avevo l'armatura, per quel pensavo che ero un griffer Beh, se torno ho l'armatura e la spada di diamanti lo uccido Quel nabbo Che cazzo? Mi ha teletrasportato fuori il frocio Non so cosa voglia fare Guarda che adwin finocchio, nabbo, dov'è? Sono fuori però stai tentando di imprigionarmi Sono qua che combatto con l'admin Quel finocchio Mi ha dato fuoco E' adesso lì che vola, pezzo di merda Obama mi ha buttato dell'acqua, adesso sono salvo Sto scappando, io scappo cazzo, solo che mi potrei trasportare il frocio Che cazzo vuole fare? Se avessi un arco E' lì con la lava in mano Sto combattendo contro l'admin, però quel nabbo Aha, però volo anch'io Adesso sto volando Dov'è? Non lo so, secondo me sì Sì Ha droppato lava Ha droppato lava Inspargibili, sai quella con le hack? E anche della bedrock Che admin nabbo l'ho ucciso Non si aspettava che aveva le fly hack, quel frocio Gli ho fottuto la bedrock e della lava Che admin finocchio nabbo Non ce la farà Oh cazzo Mi ha portato in cielo Merda mi ha ucciso Mi ha teletrasportato in cielo Solo che io stavo volando Poi non so che cazzo ha fatto Adesso Non ho più un cazzo Teti ha scoperto No no L'ho chilato due volte Mi ha teletrasportato di nuovo Ma non dentro la prigione Dove ero prima? Dove sono morto? Perché non muore? Boh forse lagga Mi ha riteletrasportato Ora sto prendendo un po' Gli item che avevo prima Ma l'ho ucciso di nuovo Mi sa Mi sa che l'ho riusciso Che frocio Ora quasi do fuoco a questa struttura di legno Che admin finocchio Ora gli do fuoco qua tutto Guarda guarda E tutto di legno E lana Ho ripreso l'accendino La spada E Un pezzo dell'armatura E ora sto dando fuoco a questa struttura Sai quella gigante è tutta di legno e lana Mi ha riteletrasportato il frocio Lo sto uccidendo Lo sto uccidendo L'ho riusciso E' la quarta volta che lo uccido Solo che io ho anche la super velocità Con le fly hack Che cazzo? Cosa crede di fare? Ma non mi ha teletrasportato sott'acqua Sperando che morissi Soltanto che sono uscito con le fly hack Perché ho anche la super velocità Solo che Che cazzo ho perso la spada Intanto c'è qua che brucia tutto Questo edificio Del cazzo Tutte queste cose E poi il server è abbandonato C'era solo l'admin Se non ne troviamo noi Mi do fuoco per bene Ma guarda Non lo sa neanche scrivere i codici Ah non ha messo lo slash Gli sto griffando tutto il server In più non riesci nemmeno a uccidermi Quante volte l'ho ucciso? Boh secondo me 4-5 volte Comunque Dove sei tu? Non lo so comunque Ah è qua che stai piazzando la TNT Hai del legno da darmi? Dammi del legno Che se mi teletrasporta l'admin mi faccio le cose La spada di diamanti E anche tutte le armature Mi rifaccio Ok meglio Tenere la fly a cattivo Perché non si sa mai che cazzo fa quel nabbo Oh questo si che è un video epico TNT ha scritto Si è accorta della TNT Ma cazzo che ha due in nabbo? L'ho ucciso 4 volte tipo Ora mi faccio la spada di diamanti Con tutti i diamanti che li abbiamo fregati Che li abbiamo anche distrutto la casa Intanto mi sa che quella struttura enorme sta bruciando Era tutta legno e lana Ma così non si può Ok adesso metto in pausa Oh mio dio non vi invaginate neanche cosa è successo ragazzi L'admin mi aveva trasportato dentro una prigione Dopo avergli detto che stavo facendo un video per Youtube Ha deciso di griffare il server insieme a noi E mi ha dato questa lava E adesso sta facendo esplodere questa enorme struttura Questo sta facendo tutto l'admin Guardate che esplosione causata dall'admin del server Oh mio dio Guarda che roba No io sto in qualche volo Ho l'impressione che questa struttura è mal messa Che va che bestia Chi? Very fun Ah si è divertito a distruggere la sua La sua enorme struttura admin Ok adesso do fuoco all'entrata di questo posto merdoso L'entrata è tutta di legno e gli do fuoco Ho buttato un po' di lava Però mi sa che lo spawn point è protetto Boh Non lo so Allora non è protetto Oh my god I builded a library Ho costruito una libreria Bravo bravo Aspetta eh Stoppo perché ci vuole troppo tempo per trovarti Eccomi tornato ragazzi Bene adesso vediamo se lo spawn è protetto Non credo però Si è protetto Eh non prende fuoco è protetto Vedi? Si si sto dando fuoco guarda Vedi che il fuoco sparisce Ok Andiamo in giro va Ah si andiamo dentro la libreria tutta di legno Oh qua ci sono delle casse Sono vuote secondo te No è vuoto è vuoto Se avessi del legno potrei Farmi le cose in diamanti Potrei farmi un po' di cose Perché c'è una passata di lava sulla libreria Ce l'ha messa l'admin Quell'admin idiota Che cazzo qua c'è un creep Eh ne ho solo uno Guardala quanta lava Vedendo che lì c'è un ragno Ok dobbiamo trovare l'entrata di questo posto di merda Ecco qua Guardate che bel posto Dici e vuoi? E entra Information Non c'è nessuno Bene che bel posto Ora lo greffiamo Ho ancora tutta la lava che mi ha dato quel nabbo Aspetta esci di qua Che vado in cima a buttare lava Aspetta dammi un po' di lava Ci vado io Hai ragione Ti do la lava Tieni Ne ho ancora Ne ho ancora Guarda quanta cazzo di lava Mi ha dato quel nabbo Me l'ha data l'admin Tra l'admin È una cosa fighissima Boh prendi Ah io sono qua sopra Ma semplicemente Butta la qua così Ok Beh con tutta questa lava Ok Dobbiamo stare attento qua Vediamo un po' come viene C'è tutta la lava che sta colando In questa libreria in mesa E È inutile Perché non c'è neanche un giocatore Tu continua a buttare lava Guarda Sì sì Ah beh con quelle che mi ha dato l'admin Quindi Ah dimmi il problema Mi ho detto che ho mettevo il video su youtube E qualcuno mi Vuole griffare con noi Mi dà la lava Cioè me ne ero andato E mi ha chiamato Mi ha teletrasportato da lui Per darmi la lava Ah magari ci fosse stato il capo Si divertiva Come un matto Guarda che roba Devi vedere che spettacolo Che c'è qua giù C'è tutta la cosa che prende Sta prendendo tutto fuoco qua eh Sì sì Il nostro esperto di lava Lava man È all'opera Io tanto brucio un pochino qua Brucio queste libreria di merda E poi Non c'è nessuno Su questo server Abbandonato Che senso ha Sprecato tutto questo tempo Tu butta giù Butta un po' di lava Dall'entrata Aia Aia Cazzo Però sono quasi morto Solo un cuore Io sto andando fuoco un po' Anche qua giù Oh vaca Che cascate che stai facendo Sta bruciando tutto qua Continua a buttare Sì sì Aspetta che Trovo l'uscita Ci dovrebbe essere l'uscita di qua Sì infatti E vaca Si vede che stai buttando la lava Copre tutta l'entrata Aspetta Vediamo un po' il tempo 18 minuti Cazzo Eccomi tornato Guardate Come abbiamo combinato Questa stupida biblioteca Cioè come ha combinato Lava Man Il nostro esperto di lava La lava che sta ancora colando Sia fuori che dentro Con cascate enormi di lava Sembra di stare nel nether Vediamo un po' Si ci ha messo Aia E cioè Mmm Mi sa che l'adio mi ha ucciso Sono morto Ok Sono morto Possiamo concludere qua il video Spero che questa griffata vi sia piaciuta E ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.